Ha riposto anche il consigliere comunale Ezio Raciti, già assessore della giunta Spitaleri, si prepara a scendere in campo. Raciti stigmatizza i candidati che cambiano casacca più volte, che devono esserci a ogni costo e che nella scorsa campagna elettorale erano con l'avversario. E negli avversari, in particolare, Raciti non vede programmi, ma un calderone di voti della vecchia nomenclatura. Per quanto riguarda invece il suo di progetto, Raciti spiega che pone al centro i reali bisogni per cogliere gli elementi necessari alla gestione dell'ordinario e per affrontare al meglio l'esigenza di sviluppo della città, un progetto di valori e metodi che si basa sulla moralizzazione e professionalizzazione della politica e rifiuta ogni meschina mercificazione del voto. È necessaria, secondo Raciti, un'idea di servizio a favore del cittadino che riponga nei propri delegati, seri e responsabili, la gestione del proprio futuro. Raciti dice no al qualunquismo, agli slogan e al clientelismo e che deve essere dichiarato un programma chiaro di gestione amministrativa e prospettare una vera rivoluzione in termini di gratuità del servizio, di valorizzazione e pedonalizzazione del centro storico, di economie per il reinvestimento a favore delle emergenze sociali, dei precari e del turismo, l'apertura del porto mediante la variante del piano regolatore generale per consentire l'attracco dei battelli da turismo nel molo di terra e il rispetto della normativa sulla pesca a strascico, la lotta alla criminalità con iniziative reali e la realizzazione di un osservatorio permanente per agevolare le imprese. Per realizzare il programma Raciti ritiene necessario il sostegno di valori, vasta cultura e la formazione di una lista di persone idonee a gestire l'ordinario e capaci di formulare serie proposte di sviluppo in antitesi al concetto tradizionale di coalizione politica basata su numeri ed equilibri ma lontana dalle vere esigenze dei cittadini.